Che cos'è la magia meopatica? La magia meopatica non è altro quelle credenze dell'essere umano, i fenomeni rimangono sempre gli stessi, le epoche cambiano, ma cambiano e noi, come operatori extension, dobbiamo essere consapevoli che dietro un allungamento di capelli. C'è un bel lavoro di analisi che tocca tanti aspetti, ma andremo per grati in questo curso high extension e spero di aver colto qualche cosa e farvi vedere l'estensione dei capelli da un altro punto di vista, però ci serve per essere consapevoli e avere successo in quello che facciamo.